Conoscere per poter decidere del proprio futuro personale e professionale. Con questa prospettiva il Teatro Mancinelli di Orvieto ha accolto gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di Orvieto Eterni che hanno assistito a It's My Life, un workshop di orientamento alla formazione post diploma realizzato con una formula interattiva, divertente e multimediale. Sul palco il teatro educativo, un network di professionisti provenienti dal teatro, dalla comunicazione, dalla pedagogia, dal cabaret televisivo, dalla formazione e dal teatro specializzato nella comunicazione di contenuti didattici, educativi e orientativi. L'iniziativa patrocinata dal Comune di Orvieto rientra nell'ambito di un progetto di orientamento finanziato a livello nazionale dal MIUR e realizzato da ITS Umbria, l'Accademia Tecnica di Alta Specializzazione Post Diploma, punto di riferimento Umbro della formazione terziaria professionalizzante, promosso dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Umbria con l'obiettivo di formare giovani supertecnici da inserire efficacemente nel mondo del lavoro. It's My Life ha costituito l'occasione per portare in scena una riflessione sulle opportunità che la società offre ai giovani per potersi qualificare, specializzare e collocare nel mondo del lavoro, sugli strumenti e sulle tecniche per orientarsi dopo il diploma, sui motivi per iscriversi a uno dei percorsi formativi di specializzazione di ITS Umbria, meccatronica, biotecnologie e internazionalizzazione agroalimentare sistema casa e sulle opportunità che questi aprono ai giovani in termini di inserimento occupazionale qualificato. Lo spettacolo ha rappresentato soprattutto un'occasione per stimolare i partecipanti ad aspirare a qualcosa di concreto progettando il proprio percorso professionale in base a un equilibrio tra sogno, aspirazioni personali e fabbisogni delle realtà produttive del territorio. A introdurre il workshop Giuseppe Cioffi, presidente della fondazione ITS Umbria, Francesco Lanzi, presidente della sezione territoriale di Orvieto di Confindustria Umbria, Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto, Carla Emiliani dell'Università degli Studi di Perugia e del Vira Busà, delegato dell'ufficio scolastico regionale. Il valore fondante dell'azione di ITS Umbria, ha sottolineato il presidente Cioffi e assoluto allineamento con le esigenze delle imprese che vengono da noi tradotti in programmi didattici con lo scopo di formare risorse qualificate. Lo facciamo ispirandoci al passato del nostro paese, all'esempio delle botteghe rinascimentali nelle quali i giovani venivano stimolati a trasformare i saperi in azioni accompagnati dai migliori maestri. Il tutto mediante esperienze qualificanti nei laboratori, nelle imprese all'estero ma ITS è anche in diretta con il futuro, ha proseguito Cioffi guardando alle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica ad industria 4.0, all'economia digitale e a quella circolare.